Amici bentornati sul sito 9.000 giri elaborazione autosportive. Oggi vi presentiamo una Ford, di solito le Ford non sono così gettonate come abbrari altri modelli, comunque ce ne capitano abbastanza spesso. In questo caso è una Ford Fiesta, una ST, quindi non un ST line, proprio un ST, il 1.5 da 200 cavalli, una macchina direi assolutamente ben progettata, performante, rapporto peso potenza sicuramente di soddisfazione per chi guida questa macchina. La macchina si vede molto molto recente, quindi di ultima generazione. Il cliente ci ha chiesto per il momento di iniziare con uno stage 1 motore, quindi come dico sempre, di solito la prima cosa che ci chiedono tutti è il motore, poi dopo vengono altre cose, però prima cosa è il motore. Alla motore cosa ci ha chiesto? Una rivisitazione, un'ottimizzazione dei parametri elettronici, quindi in questo caso è uno dei pochi clienti ai quali abbiamo proposto la Seleton, nonostante che la macchina fosse in garanzia, ma ha preferito fare una mappatura via seriale. Quindi siamo intervenuti riprogrammando la sua centralina principale, quindi come abbiamo spiegato altre volte, viene sostituito il file, quello di serie, con un file modificato, con un'ottimizzazione soprattutto delle pressioni rail, pressione turbo e tutti i parametri di gestione elettronica, in maniera tale da avere un incremento di potenza. Noi, lo dico sempre tutte le volte, cerchiamo sempre di fare dei lavori che non siano eccessivamente spinti, eccessivamente invasivi, per non toccare l'affidabilità meccanica delle macchine ai nostri clienti. Quindi anche in questo caso, diciamo, un lavoro di questo genere, abbiamo fatto un calcolo, dovevamo arrivare massimo a 30 cavalli e 45 Nm di coppia. Quindi una macchina che passa da 200 cavalli a 230 cavalli, 229 a 230 cavalli, è più che accettabile per avere appunto una macchina più prestante, ma comunque in totale sicurezza. Quindi completata la parte, diciamo, elettronica, che è la parte principale, il cuore dello stage 1, abbiamo aggiunto il filtro aria sportivo, questo è quello che abbiamo sostituito, quello ovviamente sportivo è già stato montato, questo in cartone si vede quanto è nuova la macchina, perché il filtro aria è praticamente nuovo, in tonso. Quello che abbiamo messo noi è un BMC, chiaramente più basso, in cotone lavabile, più permeabile, non è che il filtro da solo porti a chissà quali incrementi. Diciamo che respira meglio il motore, l'importante, come dico sempre, è la corretta manutenzione, quindi va bene sostituirlo, ma bisogna controllarlo ogni 8-10.000 km e quando il filtro comincia a essere sporco, soprattutto sul lato aspirazione, perché dove si sporca la parte di ingresso dell'aria, con una procedura, come ho spiegato, se andate a vedere dei video precedenti, c'è una procedura di manutenzione, quindi viene lavato, rioliato e il filtro ritorna perfettamente come se fosse nuovo. Il filtro, quello originale, lo lasciamo sempre al cliente, perché nel momento in cui viene fatta la procedura, siccome il filtro va lavato, quindi bisogna aspettare che asciughi, magari nel momento in cui uno ha bisogno della macchina urgentemente, nel frattempo può rimontare il filtro, quello originale. Oltre al discorso filtro, siamo intervenuti col classico pedal booster, in questo caso la soluzione interessante è che l'abbiamo messo in posizione, perché avevamo l'opportunità, addirittura mettono all'interno del cassettino, quindi in questo caso è stato fatto un lavoro direi molto anche bello esteticamente, quindi come si può vedere il solito selettore dove cliccando cambia la modalità di risposta del pedal all'acceleratore e in questo caso si va a togliere via il buco iniziale, cioè si va a togliere via quel lag che tutte le macchine inizialmente, perché così è stato impostato dalla casa, quindi attraverso questo selettore si toglie il lag e attraverso la centralina, avendo la macchina più pronta in risposta, chiaramente i cavalli e la coppia danno un piacere di guida completamente diverso, quindi per quanto riguarda anche il pedal siamo a posto. L'ultima parte che manca, che per il momento non l'abbiamo ancora fatto, però lo faremo prossimamente, è il discorso dello scarico, quindi andremo a montare uno scarico sportivo cercando di rimanere all'interno dell'asola, vedremo col cliente se fare solamente il terminale o come spieghiamo tutte le volte aggiungere anche il centrale, diciamo che questo è un lavoro che decideremo di fare più avanti anche per un discorso di costi, per diluire i costi in un tempo un pochino più ampio. Per il resto direi che è una macchina assolutamente perfetta, poi pian pianino, ripeto, intanto abbiamo iniziato con questa base qua, pian pianino magari il cliente poi deciderà di fare anche incrementi in interventi che riguardano l'assetto e l'impianto frenante. Io direi che per oggi su questa fiesta è tutto, vi invitiamo a contattarci telefonicamente in sede, come dico tutte le volte, allo 027383175, mi trovate tutti i giorni dal lunedì al venerdì, tranne il sabato che meritatamente mi riposo e la domenica pure. Consultate il sito www.9000giri.it all'interno del quale troverete l'archivio elaborazione con più di 3600 schede vettura, quindi metteremo anche questa Ford Fiesta nella sottocategoria Ford e quello che vi invitiamo a fare è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Grazie a tutti!